SESSO Lo sai, siamo scambisti Tanto sesso Brindiamo alla nostra seratina, eh? Pure il maniaco, te lo ricordi quello che mi svegliava tutte le nostre? Sì Ho una questione personale da sistemare Esattamente, c'è un piano accuratamente nascosto che cerca di tenere le persone sul filo del rasoio Determinando la mancanza di evoluzione spirituale Sara, credo che qualcuno mi stia a seguire La macchina è viva!